Per prima cosa lasceremo questo albergo sul quale possiamo stendere un velo pietoso, ma questo ne parliamo meglio in una prossima puntata. A questo punto si tratta di andare a fare colazione. Per quanto riguarda la colazione, Susanna ha scelto per noi un posto nuovo, assolutamente inedito, quindi Vegas 2013, siamo al Sunrise Café. Rapido salto, ma efficace, in sala stampa e da lì raggiungeremo immediatamente le suite ai piani più alti del Venetian. Lì ci attendono le novità della high performance audio, questo high end, questa audio tradizionale due canali di altissimo profilo. Incontreremo le novità dell'edizione 2013 e incontreremo alcuni personaggi che fanno la storia dell'alta fedeltà, ma non è che l'inizio. Questo caffè ha una funzione essenzialmente di tipo biologico, tipo la famosa reazione gastrocolica. Per il resto non serve a niente.